Si chiama Sosteniamoci Insieme. È un progetto diventato una best practice per l'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità intellettiva relazionale con sindrome di Down. Capofila dell'iniziativa finanziata dall'assessorato regionale alla famiglia, l'associazione sportiva dilettantistica Sport21 Sicilia, che ha operato insieme all'associazione italiana Persone Down di Termini Merese, coinvolti in tutto 11 ragazzi, 6 della Sport21 5 dell'Iped di Termini Merese, che imparano così a conoscere prodotti vegetali come i nostri ortaggi regionali, prodotti cerealicoli siciliani e tipici della nostra agricoltura, per scoprire i segreti delle migliori birre siciliane, con l'obiettivo di un percorso di inserimento prima sociale e poi anche lavorativo, producendo una birra solidale realizzata proprio dai ragazzi. Come obiettivo l'inclusione sociale dei ragazzi e soprattutto la possibilità di un inserimento lavorativo. Questo è uno degli aspetti che completano un progetto che, seppur piccolo nella sua limitatezza, perché è un progetto molto breve, abbiamo chiuso in un paio di mesi, anche ringraziando il Covid, però continuerà sicuramente perché avrà come partner una serie di stakeholder e attori interessati soprattutto all'inclusione sociale. Queste persone affette da una sindrome riescono a dare alla società, perché questo è il progetto di oggi, cioè non è la società che dà, sono loro che danno alla società e danno a società anche con modelli diversi, in cui si parla anche di sostenibilità, sono termini di cui adesso si fa uso e abuso, talvolta sostenibilità, questo è un grande merito e la società deve apprendere proprio da questi insegnamenti. Il mio sogno è che uno dei ragazzi che ha partecipato al corso o altri ragazzi che verranno formati all'interno di questi progetti possano trovare occupazione all'interno delle nostre strutture. Non è solo un sogno, lavoreremo affinché questo sogno si realizzi. E poi una birra solidale ha sicuramente un sapore diverso rispetto a un'ottima birra artigianale, ma quella ha un sapore diverso e una storia diversa. E' il prossimo passaggio dunque alla nascita di una vera e propria etichetta, una birra solidale, come detto, dal valore immensamente maggiore rispetto al prodotto stesso.